Inedita è un'agenzia di comunicazione sociale di Arezzo che insieme a Cobb ha deciso di diventare promotrice di innovazione e di sviluppo sociale. Attraverso i propri progetti di comunicazione per il terzo settore e attraverso il proprio magazine vuole creare un futuro migliore, diverso sicuramente più inclusivo nel nostro piccolo sì ma insieme a voi